Il Presidente del Consiglio attesa nella giornata di domani insieme anche al Ministro Piantedosi, al Ministro dell'Istruzione e dello Sport, al Parco Verde di Caivano, una giornata dovuta rispetto a quel che è accaduto non solo negli ultimi giorni ma nel tempo in quel luogo. La notizia dello stupro di gruppo sul Rione che ha riacceso i riflettori sul degrado di quella zona, l'inchiesta della Procura dei Minori e della Procura di Napoli Nord va avanti per definire ruoli e responsabilità degli accusati, quelli accusati di aver abusato delle due cuginette. Chiesta di aiuto che arriva dalla Rione del Parco Verde di Caivano, teatro dello stupro di gruppo delle due cuginette di 10 e 12 anni, non può più essere inascoltata. I racconti delle violenze e degli abusi hanno scosso gli animi delle persone per bene che vivono in questi casermoni fatiscenti, dove a dettare le regole sono spesso criminali e spacciatori. Per garantire maggiore legalità e dare un segnale forte della presenza dello Stato, si è svolto il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Si stanno esaminando anche progettualità che vanno oltre il tema dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, che sicuramente è prioritario, ma bisogna lavorare in maniera condivisa perché il tema scuola, scuole aperte, devo dire il fatto stesso che si faccia l'incontro in una scuola è importante. Davanti alla Chiesa fino al 4 settembre ci sarà il camper della Polizia di Stato per promuovere la campagna contro la violenza sulle donne. Questo non è amore. Qui dove si diventa adulti troppo presto e spesso si ha paura di denunciare. Siamo qui per questo, per far sentire questa cittadinanza meno sola in questi giorni, così critici e drammatici per questa comunità. Come una cattedrale nel deserto c'è la scuola del quartiere, con Eugenia Carfora, la preside sceriffo, che i ragazzi quando non vanno a scuola va a prenderli fino a casa. Qui domani sarà in visita la Premier Meloni con i ministri dell'interno, dello sport e dell'istruzione. Qui ci vuole un'amministrazione forte, morale, essere presenti tutti i giorni e adesso avere pazienza. Per arrivare a certi tipi di obiettivi non è che in un giorno tu vieni e guardi. Qui bisogna respirare, lo continuo a dire fino alla morte. Tu per diventare più forte dell'altro Stato devi dare delle opportunità immediate, devi arrivare prima. Grazie. Grazie. Grazie.